Dopo i rughi che ieri hanno interessato una vasta zona posta in prossimità delle aree protette del Parco Nazionale del Vesuvio, non manca l'appello del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella. Una prima stima delle associazioni di volontariato parla di almeno 3.000 metri quadri di terreno e aree boschive interessate dagli incendi. A rendere complicate le operazioni, in particolare ieri sera il vento che soffiava sulla zona vesuviana, che ha di fatto ulteriormente alimentato le fiamme. Ai microfoni di tv siti il primo cittadino invita a segnalare qualunque situazione sospetta al fine di salvaguardare il territorio. L'appello è sicuramente a tutti coloro che in particolar modo ovviamente abitano da quelle parti. Signori, purtroppo ieri c'è stato un episodio a cui pensavamo che fosse scongiurato. Ci sono stati momenti di calore altissimo ultimamente nell'estate con Nerone e non ci aspettavamo così ieri, all'improvviso, con una serie di focolai. Si vede che evidentemente, a parere mio modesto, la cosa veramente è dubbiosa. L'appello è rivolto alla cittadinanza, se vedete persone strane che si aggirano, se vi vengono sospetti di avvisare subito alle autorità, potete avvisare anche a sottoscritto, alla segreteria, ma comunque in genere avvisare le proprietà, perché dobbiamo salvaguardare il nostro territorio, dobbiamo salvaguardare le nostre ricchezze. Il Vesuvio è una delle nostre ricchezze per tutta la città di Dolore del Greco e non solo.